vuol dire che hai bisogno che vai per frutta lì, scendila e prendi, e da lì prendi a fuoco a me fa tutto cazzo che pesante è un po' più a sinistra stessa cosa che stai facendo lì ma poi sembro la cosa, quella, come diciamo, ha le giri, ti leccai eh, tu lecchi la mazzetta vai, vai, ridi, fai la parola cosi, cosi, cosi